Ciao ragazzi e dopo il successo del video vi faccio vedere in questo gioco di Roblox insieme al mio compagnetto tattico qui andiamo a giocare il gioco che tutti noi conosciamo, il gioco ragazzi di Squid Game allora lo potete trovare su Roblox infatti non fate caso al mio personaggio che è alquanto orribile ma lasciamo stare iniziamo subito a partecipare, intanto qui abbiamo due signori che ci accolgono ok perfetto, entriamo dentro, vediamo che succede, qui c'è un puntatore che è meglio non far vedere ok qui penso che dobbiamo passare, ok sono io grazie andiamo assolutamente a giocare, vediamo che cosa succede, di che cosa si tratta ok ok dobbiamo metterci in posizione, dobbiamo metterci in posizione quindi penso red light, green light deve essere sto gioco ok iniziamo, ragazzi mi raccomando guardate io con questo faccino qui farò veramente molta strada di sicuro, siete pronti ragazzi, siete pronti, almeno per andare nel prossimo iniziamo, iniziamo, verremo eliminati subito penso, vediamo ok ci siamo, ci siamo quasi ok piano ok ragazzi ci siamo, ci siamo, abbiamo 5 minuti come potete aver visto, aspettiamo un attimo ok andiamo ci manca a correre un po' ok 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 ragazzi ho un'ansia assurda questo gioco fa veramente, è a cardiopalma questo gioco ragazzi ho appena scaricato Roblox quindi non ditemi sulla mia skin che fa veramente schifo ok direi che siamo messi abbastanza bene ragazzi siamo terzi siamo messi abbastanza bene siamo messi bene dobbiamo, ok dobbiamo fare attenzione però ragazzi eh, dobbiamo fare attenzione ho un'ansia assurda che voi non potete capire ragazzi vi ricordo l'iscrizione dell'altro video così assolutamente iscrizione perché è molto importante quello lì sta vincendo cioè purtroppo sta vincendo come potete vedere oh ragazzi ho rischiato tantissimo qua ragazzi qui ho rischiato tantissimo qua ho rischiato tanto, tanto, tanto eh qua tanto, tanto ma ragazzi ho rischiato tantissimo lì purtroppo non riesco a parlare sempre perché devo fare anche un po' di commentary siamo rimasti in pochissimi non so perché c'è gente lì dietro ora direi di fare molta attenzione perché siamo nella parte finale ok ok, 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 ok eravamo partiti in non so quanti ragazzi ragazzi ho vinto ho vinto red light e ho vinto red e ho vinto eh sì, scusate, green e ho vinto green e ho vinto guarda con che faccino anche che stupido eh ragazzi e dopo questo grave errore veramente sad ho deciso di riprovarci perché io non mollo devo portare un contenuto e quindi devo far vedere a tutti che questo gioco è bello e che riesco a giocarci non posso finire un video così c'è momia oddio mio ancora mi vergogno ragazzi mi prenderete in giro per il resto della mia vita su questo gioco sono pienamente certo ma avete anche ragione sinceramente ok ragazzi tentiamo un altro tentativo perché quello che ho fatto prima è stata una cavolata assurda spero che boh non lo so ragazzi mi vergogno di quello che ho fatto perché ho cliccato a caso il tasto ma è partito sempre da qua non lo so sentiamo meglio di qua ok ragazzi avete visto che cosa è successo? avete visto? cioè siamo pazzi qua vabbè comunque vi ricordo di iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto ah e comunque ho visto che ultimamente sto lasciando un numero di successo quindi sto cercando di portare più contenuti variati per molte tipologie di persone so che a tanti piacciono che fa quello lì? so che a tanti piacciono i comunque gameplay anche quindi ho deciso di portare anche un video così che mi fa questa in testa spostati per favore grazie ok iniziamo subito ragazzi siete pronti? stesso discorso di prima sperando di arrivare fino alla fine e di non sbagliare a premere un tasto dovrebbe essere abbastanza semplice non lo è perché ho sbagliato questo rumore qua è veramente troppo alto però ok wheel lights ok 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 siamo messi abbastanza bene ora non devo premere nessun tasto mi devo mettere in testa sta roba perché non è facile non è facile fare le gameplay e parlare e nel frattempo giocare e far tutto giusto ma dovremmo arrivarsi questa volta sono fiducioso e ci arriviamo pure primi barra secondi questo lo facciamo questo qua questo lo facciamo questo è nostro questo game qua è nostro ragazzi devo stare però attenti eh non fare la cavolata di prima per favore no distrazioni assolutamente devo portare un contenuto forse potevo anche finirla eh forse potevo anche finirla ma ormai sono arrivato basta solo aspettare quando gente che muore basta solo aspettare ragazzi basta solo aspettare ragazzi ci abbiamo fatta 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 siamo penso avanzati stiamo facendo diciamo la seconda il secondo gioco penso sia non lo so quello dei quello brutto dell'1,2,3 stella adesso non lo so adesso vediamo un po' di che cosa si tratta PS fatemi sapere se conoscevate anche voi questo gioco qui sotto in descrizione o magari lasciando un bel like però non ditelo a nessuno che le cose rimangono tra di noi comunque sto decidendo di aprire magari gli abbonamenti non lo so ma è una buona idea fatemelo sapere che sono i commenti ragazzi e vi lascio alla conclusione del video no ragazzi purtroppo rettifico il gioco finisce così perché come potete vedere a destra trovate tutte tutti i personaggi praticamente quelli che hanno vinto più vittorie oddio mi sono incastrato ok quelli che hanno vinto più cose quelli che hanno vinte meno allora se questo video andrà bene continuerò farò magari una serie e cercherò un altro gioco di Roblox che si può fare tutto diciamo però questo è già un bel inizio mi sono divertito veramente tanto spero vi siate divertiti pure voi ragazzi quindi mi raccomando spolliciate qui sotto nei video perché voglio vedere il vostro supporto anche se soprattutto se amate questa nuova serie che è venuta fuori e questo nuovo gioco devo dire è molto bello oddio guardate questo ok va bene ragazzi vi ringrazio per la visione di questo video come sempre al centro vi iscrivete al mio canale all'estera trovate un video che sicuramente vi potrà interessare e assicura trovate una playlist molto adatta a voi quindi sicuramente ragazzi vi piacerà tantissimo grazie ragazzi per la visione di questo video e noi ci becchiamo alla prossima ciao ciao ah si scrivetemi qui sotto cosa volete vedere nei prossimi video ciao ciao ciao